Paura a Sarno per la caduta di un masso staccatosi dalla collina del Saretto e finito su una casa abbandonata in località San Matteo. Immediato l'intervento dell'amministrazione comunale che nella giornata di ieri ha disposto lo sgombero delle abitazioni limitrofe ed una serie di limitazioni alla circolazione nella zona interessata. Allo stesso tempo è stato attivato il centro operativo comunale per tutti i controlli del caso e per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Un fenomeno da ricondurre all'ondata di maltempo che ha colpito l'agro nocerino sarnese nelle ultime ore e che ha fatto scattare l'allarme nella città colpita dalla frana del 5 maggio 1998.